Perché stai sul palco la numero 22 Si chiama Paula ed interpreta Ma non sei tu Paula E interpreta Edea Kramer Da Final Fantasy 8 Grazie Che in più delle sacrifici uccide voi La strega E con la sua spietata magia brucia i vostri campi Sciocchi Quando avete udito che la strega avrebbe voluto dal magia Avete tirato il sospiro verso l'ievo, vero? A chi è che questa strega non appare in sogno? Specchio dalle vostre fantasie La realtà è davvero più belle Quindi Sopri uomini Se è quello che volete Si fuggiatevi nelle vostre fantasie E io danterò in esse Sarò la terribile strega che desiderate Voi ed io assieme In una fantasia crudele Regno fra la vita e la morte Strega e la fantasia Per sempre Per sempre Viveranno con Albadia! Grazie a tutti! Grazie.